A presto 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 Rekhi Or Samajdaar Banca Chaltè Rekhi Parikshay Atenghi Parikshay Jab Atenghi Tab Pata Chaltà Hum Kaha Tak Pahunc Hai Is L'E Parikshay O Ko Bhi Atenghi Vornar Anta Tak Agar Parikshay Nahhi Aai Or Pata Nahhi Chala Or Anta Me Chiti Bhar Jitni Parikshay Aayegi Or Napa Soh Jayenge Ase Nah Hum Is L'E Samajdaar Banu Samajdaar Ban Kar Chaltay Rahu Bohut Bacchow Ko Yeh Kalpana Lagti Khi Koyi Satyug Aane Jaha Raha H H Dhev Tau Ka Yug Aane Jaha Raha Kalpana Lagti Aanji To Kertai Par Nishya Nih Paka Khi Yug Badal Ne Jaha Raha Sati Yug Aane Jaha Raha H Yaha Nishya Nih Nishya 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 Khele Bacchya Sara Kisi Din Apne Sath Bait Kar Tum Tum Confirm Khi Yaha Hone Jaha Raha H Kya Sach M Kaliyug Ka Vinash Sath Yuga Khi Sath Sath Yuga Hone Jaha Raha Raha Sath Sath Kha Khele Antip Aik Baar Tum Nishya Hua Kis Patit Kaliyug Ka Vinash Hone Jaha Raha 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 Sath Satyug Aane Jaha Raha 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 Phrir Purushar Tha Dekho Bacchya Kaisa Hoga Dhin Raat Tum Me Lage Ga Samay Kham Hai Purushar Tha Karna Raha Hume Jama Karna Hai Ap anni Aap Tumhari Sari Karamendria Man Buddhi Sinskar Cincaar Samsar Sameть Jai Business Tum Zoo 즈 Ma prima di fare il fatto di fare così, o no. Il secondo è che ti sembrava? Hai la sua pape è o no? Vele il fatto che la sua pape è la sua pape è la sua pape. La sua pape è la sua pape è la sua pape. Non ci sia la sua pape è la sua pape. Non si chiama, non si chiama. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il 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 corso gratuito. Il corso gratuito è il corso gratuito. Il corso gratuito è il corso gratuito. Grazie a tutti. 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 è un po' di capito. perché non hai capito, non hai capito? Dessi, non hai capito? Chi ha detto? Non hai capito? Tu hai capito anche questo padre, e tu hai capito anche questo padre. Non è arrivato a capito, non hai capito, tu hai capito. Dessi, tu hai capito, tu hai capito. Hai capito? Chia riare ho? Chi ha ce... Viti, dimostra? farò sengh kar chalo iso li barche man mana baho ke mantra ko sada yad rakhna shirimat sada dhyaan me rakhna ur apna kalyan karte rehana dhyaan me rakhna barche questa cosa di fare non ci sono non ci sono non ci sono il tempo è già il tempo è già è ora il barcha anche il barcha si è già la capito 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 Bap Samaiprati Samaiprati Jaga Raha Hai Maaya Ki Niend Me Nihin Sona Nuk San Ho Jai Ega Jab Tak Niend Se Jago Gai Sab Kuch Kho Chuka Ho Ga Phir Pachutava Ho Ga Pura Lega ум Samaiprati Hmm Samaiprana Samaj竿warvano Pura Pura Har second ko Suffal Karo Har Sh oxidrima ko Dharaan Karo range Subhi drama koji chance De Lelena Drama Edu Ben Non mi darebbe, non mi darebbe, non mi darebbe, ai suoi venire una persona. Descanzi, per me di rencontre votre peau. Però non ti possono perdere, le due cose altre, le due cose, le due cose. Non lo che vuoi per la sua dire, la fa ha chiamato a te. Ascolti, non stai niente di vedere le cose. Non ti senti a vedere, non? Tu guardi quella cosa. Il tuo lato era piacere alla dando a ricerca di te e che hai fatto, ma non hai chiesto di ricerca. Il tuo lato è. Tu sei il tuo lato. MROZI TUMHARI ORKAY Since? KOI HO JISSE JUGNAKA KARAN MOLLE DAOđKAY ATAEGA BACHA MAYA CO CHECK KERNA APNI MAYA CO CHECK KERNA e poi la seconda cosa, se non è arrivato a questo, quindi cosa succederebbe? Succedere la cosa è che quando ti metti in manmat, 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 e poi si connessi lo abbia con di manmat, ti metti in manmat, ti metti in manmat, ti metti in manmat, ti metti in manmat, Rai un'esame, sambhalo, basta sughi rau. Sughi rau, basta. Bapà non dice qualcosa di più. Entendete. Quindi, per questo, stai capire. La questione è, cosa è la sua mente? C'è la mente di vivere? C'è la mente di vivere? C'è la mente di vivere? Uttar hai, sàrè gianca sàr hai Ki abh humko vaapis ghar jana hai Yeh chichi dunia hai Isko chhodd hume apne ghar chalna hai Agar yeh yad rahe Tò bhi man manabhava hua Man manabhava rehnè wale bacche Sada gianca vichar sàgar manthan karte rehnge Voh baba se meethi meethi ruharihan karengge Bacche nishay hai na Yeh chichi dunia hai Yeh piyari lagti hai Is dunia mein ras aata hai kya Khaane pine mein Ghhar guraas tamen Pariwaar mein Dehasan saar mein Ya isse man ub gaya hai Chek karo bacche Yad hai na Isse chhodd kar ame vaapis jana hai Apne ghar param dham Aur tum jantte ho na tum atma hoon Hai na atma tumhare andar Chek karo bacche Samaj ki baat hai Dekho bacche Aatma aasi hai Jisko Baap Kitna bhi đađte hai O baap par naraaz nahi hoongi Mera bacche hai O jantte hai Mera bhalai ke lihe ho raha hai Baap aise hi nahi karega Aatma aise cheeze hai Aap sabhi bacche ko batana chate hai Isse lihe batar hai Taki kisi ke prati Nis understanding na ho Aapke Aatma kabhi baap ke uper Naraaz nahi ho sakti Aur jab bhi koji Naraaz ho jai Koji shabd istamal ki aai Na vakti bola hai Na atma bola hai Na bacche bola hai Jab bhi koji naraaz ho jai Samaj jana Us ghaari Unki atma Unki atma unki andar Nahi hai Samaj jana bacche Baba kio batara hai Aap bacche ko Taki aap bacche Unko reham ki nazer se Dekho Piyar ki nazer se Dekho Atma dhoshi nai hai Kyunki atma vaha hai Nai hai Vaha bhi Maya vaithi hai Vikarma karane Maya ke lehi Maya Maya Baithe hai Is liye Voh swaabhavik hai Maya Unki maaya Meree Maya Nai hai hai Bahari Unki maaya Sunskaroh ke Vikarmo ke Abhi wo Baapke oopar Gutsha karayegi Naraaz Karayegi e il rapporto di bambino con il rapporto di bambino è così è è così che è che sono iniziali che sono iniziali non è non è solo non è solo di dhiano non aracchiamo non aracchiamo perché è qui non è non è è un bambino non aracchiamo non aracchiamo non aracchiamo maia ho riei semmajh ki bati javaatma apne jaga par viethi è to usse apne aap shirimat samajh me aati apne aap jaisi koi tantarik è na yè putt prit utarne wala ojo hota è na wò jab mantra kertà è na mantra kisè chupate hai bhut prit ko wò mantra chubate lékin vohi mantra agar kisì samanya insaan ke uppar kiya jai to usse chubate nai kyunki andr kuch nai hai na to baba vohi bata raha baab ki tikhi vani kisko chukti hai jinn ke andr atma nai hai baba ki test hai trial hai check karna hai baba ka hai hai questa vita è andata questa è andata questa è andata per questo punto in questo modo in questo modo in questo modo per vivere e vivere non ci siano non ci siano in questo modo resta resta sempre resta ora resta resta guardare resta sempre resta 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 D'yann raffa. D'yann raffa. che vruttio se si arriva qualcosa di una cosa che si arriva, si lo andiamo a search. Il nostro corso è stato stato creato, dopo aver arrivato, ci sono le loro che ci sono, ci sono i loro che, ci sono i loro che ci sono il nostro corso, oggi tutti i loro sono il nostro corso, i loro il vostro corso, i vostri corso, i loro si sono il nostro corso. ora se tu hai se tu hai un guru qui hai questo guru si è tornato in modo in modo che questo è un problema perché per 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 non per 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 Però non vibro molto con l'arivo d'eselfastanza. Si vedi. Quanto accolere le cose così costruito? Il vero è quello la comunicazione. per la visione 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 oltre a tutti i nostri amici. D'annunza, 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 D'annunza. Bocchi, pensate a tutti. D'annunza, 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 D'annunza. D'annunza, allora tu aviati, come? come se vannoghe? Il nostro training period è il nostro bambino. Il nostro corso di 4 cose sono arrivati. Quando sei in cui, tu hai ascoltato in cui, tu hai ascoltato in cui, se tu hai vittorio di Maha Raijan di potere. Non non resta in questo bambino. Quando sei in cui, tu hai ascoltato in cui, se tu hai ascoltato in cui, non resta in questo bambino. Come si sono ascoltati, Voi se tu m'è pade m'illega Hameisha Dhihan me rakhna iso bade Tum'are sanzkaro Ke adhaar per tu m'è pade m'illega Yaha ke sanzkaro Nuhi rakhou Kisì bhi prakare Ke nuhi rakhou Bholi jau Yaha ke sare sanzkaro 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 Iso bade Dekho bachy Ek udhaaran Bataatai Aapko Jisse koji bachya Achaar banaata Agar woh bholenin Kaisa bannaya Jata hai Toh onko Voha Vohi pade Milega Ye satyata Hai Ye satyata Hai Tumhari buddhi Me joh Rahe ga Us adhaar Par tumhye voha pade Milega Dhyan Me rakhna Islele buddhi Me rahe Rajai Rajai Ke sanzkaro Baap Ki yaad Baqi Na rakhye Varnah Gir Jau Ge Ekspert Hoh Bholi Jau Dhyan Dhyan Dhyana Tum Tum Baaba Ke Vachan Kul Sama Jau Sama Bacchan Dhyan 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 il mio figlio è molto semplice ma molto molto forte è un figlio che ti ho amici il mio figlio è che ha parlato di ricordare 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 di questo non si può parlare di nessuno, 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 perché non si può parlare di nessuno, non si può parlare di nessuno, non si può parlare di nessuno, con il mio corpo, se parò che si parò capire 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 non ci resta capire che non vedo la sua mente capire il corpo capire 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 non ci resta non ci resta che il corpo è come non ci resta quando ci stiamo ci resta solo essere vivi 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 e una una si capisci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.